3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Il primo livello di oggi, il livello numero 1, il livello numero 1, vabbè, eccoci qua, quindi, oh, vediamo un attimo come sono strutturati questi livelli del mondo 7. Cioè, ma davvero? Hanno un piano tipo infinito? Guardate Mario, guardatelo come vola! Cioè, veramente? No, vabbè, sono quei livelli che no. Hanno un piano infinito, tu esci nella parte destra, rientri nella parte sinistra. Ma a parte, sto notando. Ma che naso grosso ha Mario? Peggio di quello dei Gargamella, ragazzi. Vabbè, ma lasciamo perdere questo punto estetico. E poi... Me ne sono accorto adesso? Dopo 15 episodi? Vabbè, lasciamo perdere. Quit, che tocca fare? Andiamo su! Andiamo su per il tubo! Niente, è qua, non ci possiamo andare. Allora, tocca andare in quel tubo dove si va in alto. Però, il problema è che ci sono queste piante. Ok, eccoci qua. Voglio un item, c'è un item? No, perfetto, logicamente. Il gioco ci fa da grande aiuto. Andiamo qua. Sbuchiamo. Perché siamo sbucati nel punto di prima? Ma che è un tubo troll? Eh sì, ragazzi, è un tubo troll. Siamo risbucati nel punto di prima. Allora, tocca prendere il secondo tubo. Eh. Andiamo? Sì. Oh, adesso funziona. Oh, sì. Allora, qui l'item dove sta? Eh, qui è un problema, ragazzi, eh. Qui veramente è un problema. Non è qua. Ma non è qua. Perfetto. Sapete che faccio adesso? Oh. Io provo a lanciarlo di là. Oh, che culo. Oh, che culo. Sono state pure fortunati perché l'item è scappato proprio qua. Bello. Quindi andiamo avanti, va. Lasciamo quel guscio fare i suoi giri infiniti. E noi andiamo avanti. Allora, qui ci sono le piante piragna che sono... Oh, santo cielo. Ma non se... Ma non se stoppa il suo punto di spawn quando sono vicino a loro? Di solito alle piante succede questo. Oggi niente. Oh, cazzo. Mancano pure meno di 100 secondi. Quindi ci tocca pure... Sbrigare. Qui? Ok. Dove si passa qua? Andiamo. Però voglio prendere quelle monetine. Posso? Posso prendere le monetine? Dai, non posso. Ma vaffanculo. Che tubo di merda. Andiamo a questo punto sopra. Ah, e qui? Oddio. Porca... Oh, santo cielo. Cosa ho fatto? Cosa sto facendo? Vaffanculo, ragazzi. Oggi mi sento OP. Porco cane. Sto facendo fuori tutti. Tutti fuori. Mi mancano 30 secondi, ragazzi. Mancano 30 secondi. E finiamo così. Questo livello. Mamma mia, che roba. All'ultima parte veramente potevo rischiare di... Di non ottenere più questa foglia. E invece no. Ci sono riuscito a portarla a casa, ragazzi. Quindi nel prossimo livello siamo pure, in certo modo, agevolati dalla foglia. Comunque, vediamo un attimo sto memo. Mi ricorderò qualcosa? Credo proprio di no. Qui che c'è? Il fiore. Dove sta il fiore, ragazzi? Non mi ricordo niente. Qua? Dai! No, ma vaffanculo. Ecco, abbiamo spiegato il nostro memo. Vabbè, andiamo avanti. Dove si va? Ah, eccoci. Ah, perfetto. No, no, allora è quell'altro tubo. Il mini cassello comunque c'è. Abbiamo visto che c'è. Dove andare in quest'altro tubo. Eccoci, arriviamo. Ok. Andiamo. Prima arrivare in livello 2. Dove si scappa da questo tubo? Forse nel livello extra, speciale. Ok, nel livello bonus. Come non detto. Ok. Eccoci qua. Prendiamo la nostra cassa. Quale prendiamo oggi? Guardate, ora beccherò il fungo. Sarà un mago. L'obiettivo di oggi è beccare il fungo. Dove starà il fungo? Starà qua. Mi lo sento. Vado? Vado! No, invece la foglia. Ok. Dai, va bene, va bene. Preferisco logicamente più la foglia che il fungo. Ok. Ritorniamo indietro e andiamo a fare il livello 2. Mamma mia. Ci ha messo un bel po' Mario. Per fare quella salita, eh? Ok. Andiamo a fare quindi il livello numero 2. Ok. Andiamo nel livello 2. Ma perché siamo ritornati, sembrerebbe, nel tema tipo deserto? Quando tutta la mappa... È un pratino? Vabbè. Abbiamo preso comunque... Le nostre fireball preferite. Andiamo qua sotto. No, sott'acqua no, dai. Pensavo che c'era un livello... Speciale. Che ne so, ragazzi. Però dove si va a finire? Aspettate, andiamo a scoprirlo. Vabbè. No, che troll. Che troll, ragazzi. Dai. Vabbè. Però, prendi un... No, dai, ma che troll. Ma dai, non è possibile. Volevo prendere un po' di monetine. Non ci sono riuscito. Dai. Che vita triste che ho. Qui dove si va? Fermo. Non lo so. Andiamo qua? Si può salire qui? Sì. Boh. Abbiamo superato un gran parte il livello, mi sa. Oppure no. Boh. Qui. Prendiamo sotto. La foglia. Ma perché prima mi dà... Mi dà il fiore e adesso la foglia. Ma dai, ma che... Boh. Oh. I blocchi nascosti. I blocchi... Nascosti. Eh. Eh, ragazze, avete visto pure voi. Ma mi sta trollando oggi il gioco? Caro gioco, oggi non mi sta bene che mi stai trollando, eh. Eh. Non mi sta bene, no. Mi hai fatto entrare in quei tubi per... Far partire questi cosi. Le note. Si trampolini. Vabbè. Qui dove si va? Si va? Qua. Questo salta? Si, che salta. Quindi ho fatto bene. Allora. Possibile che non riesco a salire? Ok. Qui che c'è? È il fiore. Ma perché mi trolla a suo livello? Prima il coso. Adesso è il fiore. Ma prima... Ma ho fatto riprendere. Vabbè. Ma trolla a suo livello. Ma io... Posso continuare così, ragazzi? Oh, ma... Qui non si sale sopra. Perfetto. Ma a sto livello è pieno di troll. Di troll assurdi. Andiamo comunque sopra. Ci dobbiamo pure esbrigare, ragazzi, che... Manca pure poco. Oh. Ho preso quella pianta. Se lo meritavo, ragazzi. Aia. Via, via. Ho fatto bene andare sotto? Avrò fatto bene, ragazzi? Si, ho fatto bene. Perfetto. Mamma mia. Oggi sti livelli sono un po'... Trollosi, mi pare. Comunque, ed eccoci qua. E ci ha dato inoltre una vita in più per aver completato il set. Mamma mia, siamo a 30 vite. Mamma mia, quanta roba. Andiamo un po' a scoprire dove scapperemo fuori. Da sto tubo. Ok. Tocca fare il livello 3. Poi il 4 e poi il 5, presumo. Ok? Ok. Andiamo a fare il livello 3, quindi. Oh, eccoci qua. Oh, stranamente la pianura. Oh, la stella, la stella, la stella. Via, 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 via. Se parte, se parte. Qui che c'è? Un'altra stella? Ma che è sto livello? Via. Allora, buttiamo fuori qua. Che è? Oh, un'altra... Ma che è sto livello, ragazzi? Ma che è? Un'altra stella? Qui che c'è? Un'altra stella? Ma che cazzo non è sto livello? No, vabbè. No, vabbè. Qui. Un po' di monetina. No, è ritornato. Oddio. Ma che so, soli? So soli, ragazzi. No, ma... Vaffanculo. Oh, ma sti gomba, no? Oh, ma quanti so? Ma... Ma andai, ma non possono far così. Ma io dove... Dove passavo, ragazzi? Oh. Moni. Via, 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 via. Via, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Non te voglio vedere. Non te voglio più vedere. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Che livello strano, ragazzi. Che livello strano. Ah, mi sembra che questo mondo è tutto un troll, ragazzi. Mi sembra questo. Comunque, facciamo adesso il livello. Non qua, non cinque, ma il livello bonus. Ci azzeccherò la stella e non la prenderò mai. Eccolo là, perfetto. Come ogni volta io sbaglio. Oh, a questo punto andiamo a fare il no. No, ci tocca, ragazzi. Ci tocca il livello sott'acqua, il livello 4. Vediamo un po' com'è questo livello sott'acqua. Oh, sono entrato pure nel tubo in orizzontale. Oddio, ma che so' sti pesci? Ma che so' sti pesci neri? Ma che so? Zombie? Pesci zombie? Ma che è? No, qui, ragazzi, eh. Vedendoli. Ma questo che cazzo lo lavori da me? Via, via. E ma dove spunta quello? Ma dove spunta, ragazzi? Ma non ci credo. Ma poi la grafica adesso si sta muovendo verso l'alto, vero? Ma sì, ragazzi. Dai, ma che bastardo sto livello. Oddio, qui è troppo intrippante. Come cosa? No, 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 no. Io non ti tocco, caro mio. Non mi toccare. Magna di tuo figlio. Questo, però, io lo odio. Oddio, è qua? Marò, 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 marò. Via, via, via. Oh, 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 boni. Voglio il fungo, io. Voglio solo il fungo. Andiamo sopra? Mamma mia. Oh! Vaffan... No! No, vaffanculo. Mi sono pure sbagliato ad andare sopra. Intanto non ci passavo. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito. Mamma mia. Che livello, ragazzi. Mai visto. Ok. Abbiamo pure terminato questo livello. Il livello numero 4. Ok. Andiamo un attimo a scoprire dove va questo tubo. Tubo, tubo. Penso che parlo... Ah, ecco. Vado proprio... Ammazza! Vado proprio a scappare nel... Nel castello, proprio. Ma, vabbè. E quella pianta che cos'è? Ma è un livello! Ma andrai! Mi sa che non ci arrivo. Ok. Ma qua è che devo fare? I salti incredibili? Oh, vaffanculo. Oh, vaffanculo. No, 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 no. Ritorniamo indietro, ragazzi. Col cazzo che lo faccio quel livello. Col cazzo, ragazzi, che faccio quel livello. Ma è impossibile? Ma avete visto che roba? No, 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 no. Ritorniamo indietro. E andiamo a fare a questo punto il livello numero 5. Vediamo un po' come è sto livello. No, io voglio andare nel tubo quello in mezzo. Vabbè. Penso che sia la stessa cosa. Tanto i tubi si collegavano fra loro. Io voglio un fungo. Mi date un fungo? No? Eri tirchi? Sì, ragazzi, sono tirchi. Che ci posso fare? Voglio un fungo. C'è bombe. Buono. Ma come l'ho fatto a distruggere? Come l'ho fatta? Tipo... Ma come l'ho fatto, ragazzi? No, 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 no. Scoppia. Ok. Ma io ancora devo capire come l'ho fatto praticamente a buttarla giù quella bomba di prima. Qui non si passa. Però abbiamo fatto... Possiamo dire uno strike. Allora, qui niente. Io voglio un item. Sarà qui? Per andare in quel tubo? Oh, grazie. No, vaffanculo. Ma che troll, ragazzi? Ma no. Eh. Io voglio andare a prendere un item. E questo? Oh, sì. Adesso non torniamo di qua. Voglio l'item. Perfetto. Dammi questo fungo. E proseguiamo. Allora, quindi. No. Perfetto. Tocca che ritorna giù. Adesso ritocca rifà tipo così. Così. Andiamo su. Ok. Oh. Abbiamo pure... No, non tocca passare per di qua. La foglia. è di passare praticamente nel secondo tubo. Perché penso nel primo. Di sicuro ci sarà quello stoppino nel blocco invisibile. Quindi è inutile che andiamo nel primo. E qui. Possiamo entrare? No. Come si fa? Non c'entra. Ok. C'è... C'è entrato, però... In una maniera... Un po' incredibile. Lui si passa qua. Ma qui è un labirinto qua. Ma che è qua? No, 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 no. Qui non ci passiamo. Qui non ci passiamo. Passiamo sopra. Ovviamente è chiuso sopra. È chiuso. Bravi. Ma veramente... Intelligenti. Tu muori. Io passo per di qua. E ti saluto. Ok. A questo punto, ragazzi, andiamo. Per forza. No, troll. No, ragazzi, che... No. Ah, si passa sopra? Però il punto è... Come ci arrivo sopra? Come ci arrivo sopra, ragazzi? Come ci arrivo sopra? Se lì è chiuso. No. Praticamente è da là sopra. Aspettate. Devo pure sbrigà. Sbrigate. Sbrigate. Ok. Si passa da qua. Facciamo così. Siamo arrivati. Giusto? Uh, eppure è una vita. Grazie. Siamo arrivati. Siamo arrivati? Sì. Siamo arrivati? Sì, ragazzi. Siamo arrivati. Oh, carino però questo livello. È stato un labirinto. Però dai, carino. Con questi livelli sono tutti troll. E ci ha dato pure una vita in più per aver completato un set casuale. Quindi siamo qui con 31 vite. Mamma mia. Andiamo a fare il livello bonus. Il potere del fungo. Vediamo un po' se lo azzecco. Fungo. Invece no. Questo sembrerebbe quel lanciamartelli, forse, ragazzi. Molto probabilmente è quello che dicevo io. Quello lì che ti trasforma in un lanciamartelli. Comunque, detto ciao, ragazzi. Andiamo a fare il mini castello. E poi concludiamo questo video. Vai, entra un po' sopra. No, siamo ritornati indietro. No, ho usato... No, ragazzi. Ho fatto una cazzata. Ho usato... Non ci credo. Ho usato... No, vabbè, ragazzi. Ho spregato... Ed entra, cazzo! Non c'entra! Ho spreg... Vabbè. Ho spregato... Ho spregato una stella. Vabbè. Va bene così, ragazzi. Va bene, assolutamente così. Non mi ricordavo dove si andava. Io, per sbaglio, ho premuto B e ho cliccato A. Vabbè. Abbiamo spregato una stella. Intanto poi le stelle nemmeno le utilizzavamo. Ok. A questo punto, ragazzi, andiamo a fare questo mini castello. Si va! E... Ma qui mi viene voglia di spaccare tutti questi blocchi, ragazzi. Mi viene voglia di spaccare tutti questi blocchi. No, vabbè. Mi viene voglia, assolutamente. Via! Ma guardate che roba! Vabbè. Vabbè. Lasciamo perdere. Qui niente. Ma perché? Ma perché fanno questi livelli, ragazzi? Sono simpatici, per carità. Però... Non hanno una fine. Ah, ecco. No, peccato. Siamo ritornati nei livelli normali. Dove si passa qua? No, non devo andare all'indietro. Se vola? Se vola! Ma quanto è alto? Oh, è abbastanza alto, comunque. Questo castello. Ma è tutto qua? È tutto fermo? Non è che si è buggato il livello? Gli sviluppatori non ci hanno messo le robe? Mi sa che si è proprio buggato questo livello. Oh, non c'è niente, ragazzi. Non c'è niente. Va. Ma nemmeno qui. Ma nemmeno qui, ragazzi. Ma che roba è? Ma. Che strano. Vuoi andare sopra? Posso? O non posso? Mamma mia, ma perché mi fa prendere i colpi? C'era arrivato. Ecco, io c'ho paura che mo' cado. C'ho paura che cado, ragazzi. C'ho paura che cado. Ma, oh. Ma sono un mongoloide? Mamma mia, eccoci. 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 Oh, ma dove si passa? Oh, posso entrare? Non posso entrare, ragazzi. Ma non è che devo ritornare indietro e accendere tutto? Ma perché non posso entrare? Avete visto che non mi faceva entrare? Dove devo andare? Ma non è che si è proprio buggato il livello? Non è che l'ho buggato il suo livello? Ma cosa? Boh, riproviamo? No. E va a far culo, sono caduto. Non so perché, ma penso che si era buggato. Boh, proviamoci. Riproviamo, ragazzi. Oh. Non mi entra nel tubo. Non mi entra, ragazzi, nel tubo. Lo state vedendo? Lo state proprio vedendo? No, io devo guardare per forza su internet. Non mi entra nel tubo. Non mi entra nel tubo. Devo un attimo guardare su internet, come si fa. Devo assolutamente guardare su internet. Allora, ragazzi, io guardare su internet è una cosa incredibile. Sto livello? Trolla. Quando dico trolla, vuol dire che trolla. Veramente male. Mi serve, ragazzi, praticamente la foglia. Perché ci devo volare. E qui, purtroppo, sto livello di merda non la dà. E quindi, ragazzi, per forza dobbiamo ripeterlo, questo livello. Perché ci serve la foglia. Perché praticamente c'è un... Come posso dire? Un tubo nascosto qua sopra. Qua sopra proprio. Quindi, ragazzi, tocca uscire dal livello. Come si fa qua? Come si fa? Tocca aspettare che noi ci moriamo. Prendiamo la foglia. Oppure Mario Prusone. La stessa cosa. Prendiamo la foglia. Ok. Mi ha trollato in una maniera incredibile. Pure prima siamo partiti con Mario Prusone. Però va bene. Tocca fare così, ragazzi. E praticamente... Dove sta? Eccolo lì. Ecco il tubo in cui dobbiamo entrare. Andiamo là sopra. C'è tutta sta roba per farci sprecare una foglia, ragazzi. Ci ha fatto sprecare due vite. Questo cazzo di livello. Cortacci sua. Comunque. Eccolo qui, ragazzi. È una botta, cazzo no. Pensavo che non volava. Vieni. Eccolo. Impicchiata. L'abbiamo preso. E tre. E va a fangolo. Muori. Oh. Dai, possiamo dire che questo castello è stato facile. Però dai, ma mi ha fatto sprecare due vite più una foglia così. Dai. Eh. Non si voleva far. Eh, sta roba. Comunque, ragazzi. Andiamo a fare il memo. Così ce l'abbiamo bello fresco. Se mi ricordo. Dove... Dove sono le robe. Allora, io mi ricordo che il fungo era qui. Perfetto. Qui. Non mi ricordo. Oh, però il fungo... No, no, no. No, cazzo. Mi sono sbagliato a appiggiare i pulsanti. No, ragazzi. Col pad mi sono sbagliato. Però vabbè. E vabbè, ragazzi. Comunque. Concludiamo il video di oggi così, ragazzi. Dopodiché, nel prossimo video, andiamo avanti. Quindi, ragazzi. Questo video può finire così. Beh, ragazzi. Questo video di Super Mario Bros 3 può finire così. Spero che vi sia piaciuto. Oggi abbiamo iniziato, quindi, il mondo 7. E possiamo definire questo mondo trolloso. L'aggettivo proprio adatto. Cioè, ragazzi. Ma in questi livelli mi ha trollato proprio pienamente. Sono dei livelli trollosi. Pagliù di Cat Mario, ragazzi. Cat Mario è compreso praticamente nel mondo 7. Ma era una roba incredibile, comunque, ragazzi. Comunque, ragazzi. Va bene così. E chi non è iscritto, iscrivetevi subito. Mi raccomando. I social sono qua sotto in descrizione. Andate a me seguire anche lì. Instagram, lollo0dbest. E Telegram, ciascola, lollo0dbest. Ragazzi, io vi saluto. Vi ringrazio di aver visto questo video. Vi aspetto la prossima domenica, sempre alle ore 19. E ciao.